Oltre allo spettacolo, ad Amleto di Fortinbras Machine, presentiamo variazioni dello stesso tema attraverso tre appuntamenti diversi e a loro volta diversamente diramati o distillati. Il primo è un convegno, un incontro pubblico, una parola più vicina effettivamente a quello che ci aspettiamo possa essere l'occasione in cui ospiti con delle pratiche trasversali intorno dentro, appena lì fuori dal teatro contemporaneo, andranno ad aggiungere il proprio ai concetti di tradizione e innovazione, a come queste due categorie possono avere a che fare l'una con l'altra, come queste due categorie hanno a che fare l'una con l'altra in questi tempi. Poi presentiamo una mostra sonora, in realtà è un'installazione interattiva intitolata Carta Carbone, nel titolo c'è già la questione, tradizione e innovazione sembrano essere effettivamente contenuti in questa copia uno dell'altra e sarà una mostra, uno spazio interattivo che andrà avanti per tutta la settimana. In ultimo, ma non per ultimo, delle letture che farò da testi che sono stati scritti appositamente da ex allievi del corso di Dramaturge di ERT a Modena, di cui sono stato docente nell'ultima parte. Testi che hanno scritto per questa occasione che da qui potranno, spero, andare altrove intorno ad un concetto che ho chiesto loro di tenere presente, che è quello della straordinaria normalità dentro la quale ci stiamo ritrovando. Sono piantato in una pianura che si estende a perdita d'occhio. Ho la sensazione di essere in una pianura sconfinata e potenzialmente infinita, ma non potrei dirlo con certezza. Grazie mille. 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 Grazie a tutti